Ho sempre amato i film e le serie televisive con l'essere sopranaturale. In particolare mi ricordo questa serie di romanzi che davano quando ero piccolo, che si chiamava Il diario del vampiro. Era strafamosa tanti anni fa e tralasciando comunque tutte le scene di vampiro, strega, tutte cose eccezionali. Mi ricordo questa particolare, una delle puntate in cui Elena Gilbert si incontra con Katrin Pierce, che poi si scopre che Elena Gilbert non è altro che la doppelganger di Katrin, che a sua volta era la doppelganger di un'altra persona, ma non entriamo nei dettagli. E praticamente mi sono ispirato a quello e volevo ricreare una cosa simile. Ho invitato, infatti, il mio doppelganger. Diamo il benvenuto a Samuel. Introduci te stesso. Ciao a tutti, io sono il clone numero uno. Sono Samuel. Vi chiederete perché ho voluto fare questa cosa. Perché invitare il mio io, il mio doppelganger. Perché ho in mente, voglio fare un cortometraggio. E appunto, come ho detto all'inizio, essendo che ho sempre amato il soprannaturale, e volevo fare un po' una cosa del genere, no? Quindi ve lo anticipo, proprio in questo modo, dandovi una piccola dimostrazione, e soprattutto perché, cioè, è una cosa che amo fare. Ed è una tecnica che volevo provare. Spero vi piaccia e se vi interessa sapere come farlo, come si fa, farò un altro video dimostrativo di delle esatte tecniche editing per realizzare questa cosa. Per questo video, beh, è tutto. E cosa devono fare, Samuel? Devono lasciare un mi piace e iscriversi al canale per i prossimi video. Ciao a tutti e ci vediamo con il prossimo video, ragazzi.